salve a tutti e ben ritrovati su dark souls 2 allora eravamo arrivati a questo falò allora c'era una scala e c'era una porta di là scala vediamo i messaggi prima nemico temibile piova eh eh fai attenzione a maestro in breve buona fortuna fai attenzione a imboscata addirittura allora proviamo intanto a scendere e vediamo guardiamoci attorno lì c'è un oggetto non vedo niente qui però c'è una una porta con le pietre di farros che a me piacciono i legumis però io qua non vedo più niente ecco ecco oh mio dio mio dio cos'è 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 via 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 porca troia cos'è cos'è dio santo lo sento ancora qua sotto salve non c'è più ma poi perché appena toccò le mattonelle diventa tutto buio porca miseria guarda tu eh vabbè ma io ce l'ho una pietra di farros sì ce l'ho dov'è che si è aperta la porta segreta ah così facevo con la fai attenzione a spirito oscuro ma perché ma perché cos'è è un nano questo parla cos'è ma quindi se vado avanti mi attacca ma sono tutti morti sono questi ho paura che mi attaccheranno sorpresissima di qua ci sarà un ricollegamento da un'altra parte che potrò entrare da qui nemico più avanti ho fallito vita qua ci sono mille mille mila macchie di sangue oddio è caduto qualcuno l'ho visto cosa sto guardando gimli porca miseria questo vale come uno porca troia che male che mi fa meno male che ci è morto sì vabbè però oh ma aspetta ragazzi io sto facendo delle cagate ho 31.000 anime stiamo scherzando torniamo subito indietro ma subito devo all'oggetto poi non ho neanche preso che stupido randello grande le armi ignoranti viaggia a magiula allora intanto potevo potenziare la fieschetta estus beh appena ho potenziato è apparso un tizio davanti allora destrezza direi di sì forza direi di sì la tempra il vigore non l'ho ancora fatto salire e dovrebbe farmi aumentare il carico equipaggiato quindi potrei ecco recaricarmi un po di più metterei qualcosina in più alla vitalità tempra ecco così vai anima di guerriero coraggioso e la userei anima di cavaliere valoroso e via anche questa e ho ancora un'anima lassù in cima di soldato ignoto questi soldati ignoti e sono arrivato a 14.000 anime andiamo a vedere dal nostro amico fabrus se posso potenziare ancora un po le armi frammento e ne compro due perfetto e mi compro anche una polvere riparante perché secondo me ne avrò bisogno più avanti ed eccola qua me la rinforzo me la porto a più 2 volendo potrei potrei rinforzarla ancora forse e rinforziamo ancora facciamo grande lancia più 3 ok qua adesso mi servirà il frammento grande di titanite aspetta ma io ce l'ho già oh potenziamola 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 e ne ho ancora potenziamola minchia fa 270 ah no 255 di danno potentissima potentissima eccoci qua allora a sto punto io volevo vedere quel nano la che cavolo finalmente ho visto prova nano cosa vuol dire perché è la prima volta eccolo eccolo e vabbè adesso adesso la lancia più minchia no ma ma cannato non so come abbia fatto mi sono scansato ma che nemico è no e salve 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 porca troia che male e vabbè e vabbè devo curarmi forse ho fatto la stronzata no come te ne vai ma dai lo scontro era fattibile cioè sono un po' pirla però era fattibile si può aprire perché non avevo visto tutte ste cose prima raccogli oggetto campana da sacerdote mi 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 riattaccherà di nuovo quel quel nano blu bubo si è qua è qua eccolo è però adesso ti faccio è porca misera se ti faccio del danno o cosa vedo cosa vedo glen curie il senza padrone vai senza padrone però mi aiuti se hanno un amico se un amico andiamo di sopra che ci saranno sicuramente mille nani è già lo vedo pa 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 rappa pare papa sto giocando a pokemon non so se si capisce ok eccolo lì Azzà, 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 madonna la potenza, la potenza, fai attenzione a gioia ma non arrenderti, che cacchio vuol dire? Questa qua non si può aprire, c'è una gratta davanti, come l'apro io qui? Ah, 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 da tantissimo non lo dicevo, oh cazzo, porca miseria però, ma quanti? Vabbè, questi qua ti colpiscono le ginocchia come in Skyrim, oddio, non riesco a prenderlo, non lo colpisco, madonna quante battute cattive che sto facendo, mi devo trattenere. C'è anche uno scrigno qua, non l'avevo visto, ma il senza padrone cosa sta facendo? Distrugge tutto, vabbè grazie, io mi apro questo eh, Glencour, Glencour, non so come si pronunci, oh gemma vitale, da tantissimo che non le vedevo più, uh aspetta, moneta ruggini, va, va, non dico più niente. Eeeeh, oppla, la fatica proprio, ecco, ecco, sta a suonare la campana, e non so se questo è buono o no. Si apre la nebbiolina, vai Glencour, namo namo. Eh, ah i gargoyle, i nostri amici, che bello, allora adoro, adoro, addio, però un attimo, tutti, arrivano tutti, cazzo, ma dai, non è che se la cavi benissimo il Glencour senza padrone. E uno se n'è andato, porca troia, t'ho parato però, e vabbè, tutti li sveglia, tutti, dai però, ok, 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 cazzo, si stanno svegliando tutti, sarà una cosa impossibile. Eeeeh, vabbè, se ne avvicina uno, non è valida questo attacco, non è, non è, non è vero, ma io lo uso a due mani, scusa, a un certo punto. Tanto non riesco a, a parare comunque, quindi, merda, uh, l'ho scansato, il fuoco pure, il fuoco, seri? Non ce l'ho fatta a scansarlo questo, mi sa che muoio, mi sa che muoio, sono bloccato, cazzo, ma guarda che casino, ma cos'è, è una Royal Rumble? No però, lasciatemi in pace, io sto giocando con lui, la fuga, dai, no, 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 no. Èeh, perché non mi, non mi trovava quei, dai però, vai con la benedizione divina, bevila in fretta, veloce. Ah, ok, è andato, 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 è andato. E tra poco quando morirà il Glencour, lì si che saranno cazzi proprio, saranno cazzi potenti. Tra pochissimo cioè. Porca troia Ma come cavolo ci siamo riusciti Mi batte il cuore in una maniera che non potete capire Tra l'altro qua si poteva sempre cadere Sì si poteva sempre cadere Che bello Ah c'è un oggetto Anima di cavoliere valoroso Quelcuno che ci ha provato prima di me Ben fatto grazie Grazie Eh sono caduto Non si può più tornare indietro Però qua c'è un baule E cosa vedo laggiù in fondo Anello rituale del sud Lo vedo dopo La prima cosa che voglio fare è correre fino al falop Madonna subito Questa puntata partita subito così alla grandissima devo dire 20.000 anime Io risalgo subito di livello Andiamo a Maggiula Direi il vigore Perché siamo Pesanti come dei macigni Io lo porterei ecco a 11 E poi farei salire di uno La tempra Perché non ho mai abbastanza energia Anima di cavoliere valoroso Eccola qua Io la userei Che magari si può salire di livello di nuovo E sì E ci metto un'altra tempra Via Allora siamo qua Qua c'è una scala Ok Scendiamo or dunque Perché di qua non c'è niente Leggi messaggio Non usare Ok 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 Scendo Basta che non ci siano altri sorpreso Ciao Amici miei Minchia però Quanti sono? Due Tre Sei Sette Sette cani? Ma dai ma seriamente? Dai proviamoci Veloci Opla Dai 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 che ce la possiamo fare Eh no 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 C'è anche uno spirito oscuro Cazzo Questa non dovevi farmela Dark Souls Questa non dovevi farmela I cani li potevo gestire ma È arrivato lì il cappuccetto rosso Cristo Sono morto Che strano Allora Inventario Ritorniamo umani Direi quindi di scendere E poi risalire subito In galera ci sono le mie anime però Sì ma sopravviverò Ce la farò Ce la farò Veloce Ah Dai dai No cazzo Ma si può Ma che sfiga Ma che sfiga però Ma come merda devo fare io In questo punto qua È impossibile È impossibile Dai ho ucciso mille gargoyle Adesso ci sono Dei cazzo di cani E non riesco Eccoci qua Amici Ah 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 Veloce 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 No 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 Ma non fa le spazzate L'alabarda Che cacchio di Di arma è Adesso dobbiamo Dobbiamo un attimo fare due prove Allora Se io faccio così E faccio così Continua soltanto A fare gli affondi A me non interessa Se io faccio invece così Ah L'attacco potente Ok Ok Come sono morto Scusa Cos'è mi ha guardato E sono morto Sti cazzo di cani Guarda Mi sto iniziando A innervosire Sti cazzo di cani